questa è la mia bambola, Masha, vuole mostrarvi la nostra casa haha, mamma, non farle pestare i miei pannolini questi sono i miei pannolini e questi sono quelli usa e getta questi sono i miei giocattoli sul comodino Masha, non ho ancora giocato con questo giocattolo non morderlo, lo addenterò quando avrò il mio primo dentino è l'ora di un sonnellino, la mamma mi sta mettendo nel passeggino fai piano, Masha wow, mentre dormivo, Masha e la mamma hanno deciso di aprire i miei regali cosa c'è in questa scatola? è una tutina bella, wow, ecco un regalo dai miei colleghi di Pomedia Studio mamma, ora apri quella borsa verde haha, una borsa in una borsa strano, cosa c'è dentro, Masha? degli altri vestiti, ma caldi, per l'inverno oh, un animale con le corna altri due mamma, chi è? un altro regalo aprilo, svelta avvicina il passeggino, per favore mamma, fammi vedere oh, un elefantino che bello, con il velcro la mamma lo sta appendendo al mio passeggino Masha, ti presento Bonnie oh, sta arrivando qualcosa mi tirano fuori dal passeggino Masha, dove vai? ah, capisco il bagnetto mi faranno il bagnetto la mamma sciacqua la vaschetta con l'acqua Masha mette il tappo ora possiamo riempire la vasca è l'ora del bagnetto oh, attenta beh, non è male sarò pulita ah ah, il collo mi fa il solletico ok, finiamola qui Masha ha portato un asciugamano la mamma mi sta asciugando deve asciugarmi la testa e le mani guardami un pannolino pulito per favore grazie facciamo veloce ora scegliamo una tutina scegliamo questa con le stelline cominciamo dalla testa poi la mano destra e la sinistra abbottoniamola abbottoniamola addirittura tre bottoni perché così tanti caspita che sonaglio rumoroso ma è interessante Masha è l'ora di salutare ci vediamo nel prossimo video ciao ciao